Ciao amici! Famosi come i migliori amici dell'uomo, nelle mani sbagliate i cani possono rivelarsi animali feroci, indomabili, se non addirittura assassini, al punto che alcune razze sono vietate in numerose regioni del mondo. Oggi ti facciamo scoprire la lista dei 10 cani vietati in tutto il mondo a causa della loro pericolosità. Il cane corso è una razza che può sembrare abbastanza intimidatoria. Questo cane di grande dimensione può misurare fino a 68 cm per 50 kg. Questo enorme cagnolino italiano, discendente diretto del famoso Canis pugnax romano, è riconosciuto per le sue capacità di guardia e di caccia, e anche famoso per essere molto gentile e piacevole con i bambini. Questa razza ha storicamente svolto numerose guerre presso truppe romane, per poi convertirsi in agricoltrice. Il cane corso è indubbiamente un leader di bestiame. Questo cane è molto affettuoso con i suoi padroni, ma è molto timoroso e poco conviviale con gli estranei. Non è il tipo di cane che scondinzolerà per i tuoi ospiti. Di natura atletico, il cane corso ha bisogno di socializzazione, di un addestramento adeguato e di esercizi intensi e regolari all'aperto, altrimenti la sua natura aggressiva potrebbe riaffiorare. Quindi, sappi che se sei proprietario o pensi di adottare questo mucchio di muscoli maestoso, bisognerà evitare di passare dal Canada, dalla Germania, dall'Inghilterra e dall'Irlanda. Il Gul Dong, o Bulldog pakistano, è un cane molto raro. È il risultato dell'incrocio del Bull Terrier, introdotto durante il Raj Britannico nella regione del subcontinente indiano, e del Bull Likutta, una razza locale molto popolare. L'accoppiamento tra l'Oriente e l'Occidente ha dato vita a quella creatura veloce e agile, così come al temperamento feroce e intrepido. Di una potenza senza pari, questo cane è lontano dall'essere un animale domestico. La vita in famiglia non gli sta affatto bene, bisogna imperativamente tenerlo molto lontano dai bambini. Cacciatore nato e guerriero accertato viene spesso utilizzato nei combattimenti di cani, pratica vietata in tutto il mondo, ma che prospera nell'illegalità. Dominante e difficile da controllare, il Gul Dong non è adatto a qualsiasi padrone. Solo gli addestratori esperti e qualificati possono tentare di venire a capo del carattere aggressivo e nervoso di questa razza. Con tutto ciò che abbiamo raccontato riguardo questa razza, nessun bisogno di un divieto statale per evitare di incrociare la sua strada, e tantomeno farlo diventare il tuo animale da compagnia. Il Rhodesian Ridgeback, con cresta dorsale, chiamato anche African Lion Hound, è un cane africano forte, muscoloso, intelligente e di una simmetria perfetta. La sua storia è circondata da leggende e misteri, alcuni dicono che sia una zampa di leone che gli valga la sua cresta atipica. Benché sia grande sportivo e abbia bisogno di lunghe passeggiate all'aria aperta, il Rhodesian, con la cresta, apprezza anche la serenità e il relax, cosa che lo rende un perfetto cane di interno. Di temperamento socievole, questa razza ama la compagnia degli esseri umani e sarà sempre felice di giocare con i bambini o altri animali da compagnia. Può persino mostrarsi amichevole con gli estranei, se sanno mostrarsi rassicuranti. Questa razza è estremamente sensibile, il suo umore dipenderà spesso da quello dei suoi padroni. Una grande qualità che rende la sua presenza molto piacevole durante i momenti di gioia, ma anche un bel difetto, visto che basta un momento di rabbia dei suoi padroni per far sì che il suo aspetto leone, aggressivo e pericoloso emerga. Quindi, sono i suoi sbalzi d'umore che possono rivelarsi pericolosi e che giustificano il suo divieto in Irlanda, in Ucraina e negli stati americani del Michigan e del Wisconsin. Il lupo ciecoslovacco, o il cane da lupo ciecoslovacco, è il frutto dell'incrocio tra il pastore tedesco e della temibile lupa grigia eurasiatica, il che gli dà un aspetto impressionante. Sotto il vestito argentato e dietro al suo sguardo ambrato si nasconde un cane resistente, polivalente, robusto, veloce e di una fedeltà infallibile. Questo abbinamento tra cane e lupo ha dato vita a questo essere eccezionale, che unisce il meglio di ognuno dei due animali, anche se è necessario che i tratti che caratterizzano il suo aspetto lupesco siano domati correttamente, altrimenti la sua vivacità, la sua agilità e la sua potenza possono far emergere il suo istinto da predatore e renderlo quindi un cane estremamente pericoloso. Molto energica, questa razza slava ha bisogno di essere canalizzata e spinta ad impegnarsi continuamente in esercizi fisici e mentali, altrimenti il rischio di precipitare nell'aggressività aumenta e Cagnolino Gentile si trasformerà allora in una minaccia per tutti. Tuttavia rimane un animale adorabile se viene addestrato correttamente, ma in Norvegia si preferisce non tentare il diavolo, quindi è vietato. Il Tosa, chiamato anche Tosa Inu, è un cane da combattimento proveniente dalla città dello stesso nome, nell'isola di Shikoku. È il risultato dell'incrocio della razza locale Shikoku e di molte razze provenienti dall'Occidente, specialmente i Bulldog, i Mastini, gli Arani Tedeschi, i San Bernardo e i Bull Terrier. Il Tosa è un cane forte, coraggioso e di cui il peso può raggiungere facilmente i 100 kg, il che lo rende un animale pericoloso per le persone fragili e i bambini. Famoso in Giappone come il compagno per eccellenza degli Yakuza, questi ultimi lo utilizzano come cane da guardia, ma soprattutto per dei combattimenti, sicuramente illegali, ma molto lucrativi. Nonostante la sua sagoma imponente, il Tosa è una razza calma e di natura piuttosto solitaria, tuttavia richiede un grande lavoro di addestramento per la sua socializzazione in vista di una vita domestica. Senza condizionamenti e educazione adeguati, la ferocità di questi animali è sfociata in incidenti spiacevoli, che per alcuni sono stati mortali, ed è appunto per questi casi d'aggressività che il Tosa è vietato in Inghilterra, in Australia, a Malta, in Norvegia, in Danimarca, così come in numerosi altri paesi. Il Fila Brasileiro, come indica il suo nome, è proveniente dal paese della Samba, è un molosso di grande potenza che protegge il suo padrone e il suo bestiame, è anche un buon cacciatore di giaguari e di grande selvaggina. La sua storia è tuttavia poco rosea, perché è stato utilizzato per catturare degli schiavi evasi dalle piantagioni, dei soldati disertori, così come per cacciare le popolazioni autoctone. Il Fila è un cane grande molto tenero, che ama la compagnia dei suoi padroni, e di una fedeltà incommensurabile, la dimostrazione questo proverbio brasiliano, fedele come un cane Fila. Questo cane da guardia molto coraggioso non è istintivamente un predatore, quindi a patto di stimolare volontariamente il suo lato aggressivo, sarà sempre molto conviviale e docile. Bisogna sapere che se dimostra ferocità, sarà soprattutto a causa della sua estrema diffidenza verso gli estranei, il che può scatenare un comportamento minaccioso ed aggressivo. Così i tuoi ospiti rischiano di trasformarsi in prede facili per questo cacciatore nato, quindi è vietato i numerosi paesi, tra i quali il Regno Unito, l'Australia, la Nuova Zelanda, la Norvegia e la Danimarca. Il termine pitbull non corrisponde a nessuna razza, ma piuttosto a un tipo di cane che comprende tutti i discendenti dell'American Pitbull Terrier, dell'American Staffordshire Terrier, dell'American Bulldog e dello Staffordshire Bull Terrier. I cani di tipo pitbull sono famosi per essere animali da combattimento feroci, aggressivi e distruttivi. Alcune persone sostengono che questa tendenza aggressiva è innata in loro, altri ribattono e pensano che non siano più aggressivi rispetto ad altre razze canine, ma sono piuttosto i loro padroni a renderli volontariamente animali pericolosi. La cosa più probabile è quella che l'abbinamento di un padrone irresponsabile e di un cane con predisposizioni genetiche alla predazione è valso ai pitbull la loro reputazione sanguinaria. Le aggressioni di pitbull sono innumerevoli in tutto il mondo. I loro attacchi e morsi hanno portato molti sfortunati all'ospedale, alcuni se la sono cavata con postumi a vita e altri sono addirittura morti per le loro ferite. E purtroppo il più delle volte sono i bambini a piazzarsi in testa le vittime, quindi capirai che questo tipo di cane sia vietato in Germania, Australia, Canada, nel Regno Unito, in Irlanda del Nord e in altri paesi. Il dogo argentino è un cane elegante e piacevole da ammirare, discendente di molte razze canine da combattimento, da guardia e da caccia, riunisce forza, intelligenza e ferocia. Cane da guardia per eccellenza per la sua corporatura dissuasiva, il suo temperamento diffidente, la sua mascella estremamente potente, è in grado di fare un sol boccone di tutto ciò che potrebbe avere la sfortuna di trovarsi all'interno. Benché sia corpulento e molto affettuoso con i suoi padroni, e può quindi adattarsi molto facilmente alla vita domestica, anche se è necessario che sia costantemente stimolato e abbia lo spazio necessario per le sue attività fisiche quotidiane, altrimenti potrebbe trasformarsi in un vero mostro distruttivo e pericoloso. Nelle mani sbagliate, la sua natura predatrice prende molto velocemente il sopravvento. È stato responsabile di numerosi incidenti molto gravi, da qui il suo divieto nelle isole Cayman, Islanda, Danimarca, Norvegia, Nuova Zelanda e in una moltitudine di altri paesi. Lo Staffordshire Bull Terrier, chiamato più comunemente Staffy, è una razza canina ancestrale, proprio British. Questo lord canino è meno corpulento e quindi più agile e flessibile rispetto ai suoi discendenti di tipo American Pitbull. Lo Staffy ha visto il giorno all'inizio del secolo scorso, da un incrocio del Bulldog e del Bull Terrier, due grandi attaccabrighe. Ereditando dei tratti caratteriali dei suoi antenati, è stato per anni la star dei combattimenti di cani organizzati da operai logorati dalla routine e in mancanza di adrenalina nella Londra della rivoluzione industriale. Soltanto decenni dopo, lo Staffordshire Bull Terrier ha fatto irruzione nelle famiglie ed è diventato un cane domestico, cosa che ha messo in evidenza le sue qualità di razza da compagnia, equilibrata, coccolona, tenera e piacevole da vivere. Lontano dai combattimenti, l'immagine del gentile Staffy, commovente, accoccolato contro il suo padrone, non deve per nessun motivo ignorare il suo palmarès da combattente agguerrito. Non bisogna scordare che la sua natura profonda riemergerà in qualsiasi momento, se ce ne fosse la necessità. È stato l'autore di molte aggressioni in innumerevoli regioni del mondo, cosa che giustifica la sua limitazione in Spagna, Francia, eccetera, e il suo divieto in Germania, Svizzera e nelle Bermuda. Il Borboel, cacciatore di leoni, è una razza che in branco può allontanare il re della giungla. Questo cane d'attacco contadino è un custode di mandrie gigante, forte e robusto, leale e coraggioso e pronto a difendere i suoi padroni e i loro beni, a costo della propria vita. Benché sia domesticato in qualche paese, non è affatto adatto a una vita cittadina, è ghiotto di grandi spazi per un dispendio di energia fisica corretto e di aria aperta per una soddisfazione olfattiva e mentale. Molto attaccato ai suoi padroni e al suo entourage, questo cacciatore nato senza guinzaglio partirà subito in cerca di prede. Quindi il Borboel ha bisogno di fermezza e di benevolenza al contempo. In altre parole, un padrone che lo addestri con un pugno di ferro e un guanto di velluto, senza il quale le sue grandi qualità lasceranno il posto a un carattere temibile, dominante e aggressivo. Il Borboel è un cane assassino se ti considera come una preda potenziale, di conseguenza è autorizzato solo in qualche regione del mondo ed è vietato in qualunque altro posto, come Svizzera, la Francia e il Qatar, eccetera. Allora, cosa ne pensi di questi cani fuori dal comune? Quale ti sembra quello più pericoloso? Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti, non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!